Buongiorno, oggi vi aiuto a compilare la selezione delle 150 preferenze per le graduatorie provinciali e per le graduatorie ad esaurimento. Come avrete già visto, su istanze online, quindi al link dell'anno scorso, non c'è il pulsante per accedere all'istanza. Vi lascio quindi qui nelle informazioni il link diretto per accedere alla vostra domanda. Innanzitutto, la domanda può essere presentata dalle 9 del 17 luglio alle 14 del 31 luglio 2023, per gli aspiranti inclusi nelle GAE e nelle GPS. La domanda quindi è informatizzata e sarà disponibile 24 ore su 24 fino al 31 luglio. Come vedete, abbiamo qui la menzione degli aspiranti per le immissioni in ruolo. Questo perché? Perché quest'anno la domanda delle supplenze e la domanda per le immissioni in ruolo, infatti quest'anno abbiamo più di 50.000 posti autorizzati, sono nello stesso formato e quindi qui potrete compilare sia la domanda per le graduatorie provinciali, ma anche la domanda per le immissioni in ruolo, nel caso in cui siate stati selezionati per essere immessi in ruolo quest'anno. Come vedete qui, voi potrete esprimere nella domanda l'ordine di preferenza delle graduatorie, eccetera. Vi ricordo che le graduatorie provinciali non sono aperte quest'anno, riapriranno l'anno prossimo. Infatti quest'anno voi potete esprimere soltanto le vostre 150 preferenze, ma non potete aggiornare titoli, inserire abilitazioni in questo momento. Lo potrete fare l'anno prossimo, quindi, quando riapriranno le graduatorie provinciali e faremo un tutorial anche per questa procedura. Inoltre, se avete bisogno di altre informazioni, potete cliccare su Informazioni utili, dove troverete le FAQ e anche la normativa e l'assistenza tecnica. In ogni caso, per qualsiasi dubbio, potete commentare qui. Ora clicchiamo Accedi all'istanza ed entriamo con lo SPID, quindi con l'identità digitale. Io trovo che questa sia la modalità di accesso più facile e veloce. Acconsento. E abbiamo fatto Accesso. Come vedete, il formato è diverso rispetto all'anno scorso e più agevole. Vi danno delle indicazioni su come compilare la domanda. Tutta la compilazione verrà tracciata. E per perfezionare la domanda dovrete inoltrarla. Nota bene, dopo l'inoltro della domanda, prima della scadenza per la compilazione dell'istanza, i dati presenti nel PDF potranno essere modificati con l'annullamento dell'inoltro. L'aspirante dovrà procedere con l'annullamento tramite l'apposita funzionalità e poi inoltrare nuovamente la domanda. Mi raccomando, verificate poi di ricevere una mail contenente la conferma dell'inoltro, verificate che lo stato della domanda sia inoltrata e poi potete vedere anche la vostra domanda dalla sezione domande presentate. Mi raccomando, i dati che qui voi inserite sono delle autodichiarazioni e devono essere reali perché pena appunto una conseguenza amministrativa o penale per false dichiarazioni. qui vediamo i vari trattamenti dei dati e ora clicchiamo su conferma. Come vedete qui abbiamo l'elenco delle domande da inserire lo stato. Ora clicchiamo sulla freccetta e vediamo qui dati personali. Vi ricordo che i dati personali sono rettificabili nella sezione dati personali nell'area riservata. Clicchiamo su successivo e andiamo a insegnamenti. Graduatori di inclusione e graduatori incrociate. Come vedete qui c'è un pallino verde, scelta partecipazione non necessaria perché sono già tutte inserite. E qui la tabella delle graduatorie incrociate. Non si può cliccare su rinuncia, in questo caso. Clicchiamo su successivo. Come vedete noi saltiamo direttamente al punto 5. Perché? Perché in questo caso non possiamo presentare la domanda per l'immissione in ruolo o l'immissione in prima fascia. Vedete quindi torniamo indietro, vediamo 2, ma ci porta direttamente al punto 5. Proprio perché il sistema è tutto automatizzato e quindi sa già chi deve compilare che cosa. Successivo. E qui abbiamo finalmente la scelta delle preferenze. Aggiungi preferenze. Ora qui noi avremo tutti gli insegnamenti, quindi tutte le classi di concorso. Vi consiglio, vi invito a scegliere l'insegnamento che preferite. Non fate il ragionamento, eh ma sul sostegno magari c'è più posto, è improbabile che io lavori dalla mia classe di concorso. Voi qui dovete selezionare tutte le vostre preferenze sulla base della vostra priorità, che può essere l'insegnamento, la tipologia di contratto, il comune per esempio, la provincia. In ogni caso scegliete solo sulla base di ciò che voi preferite, ciò che voi siete in grado di scegliere. Perché poi l'algoritmo procederà quando arriverà alla vostra posizione. Io qui metto insegnamento a 12 e scelgo come tipo di preferenza la scuola. Come vedete non serve inserire un codice meccanografico di ogni scuola, voi cliccate sul comune. Dopo aver selezionato il vostro comune, non serve quindi inserire, andare a cercare su Google tutti i vari codici meccanografici, ma basta cliccare su Cerca. Eccoci qui, vediamo tutte le scuole che io ho selezionato. Quindi sulla base del mio interesse, vedete qui che abbiamo la possibilità di spuntare, le selezioniamo tutte, poi clicchiamo Avanti e scegliamo il tipo di contratto. Vi consiglio di fare una prima selezione se siete interessati al contratto annuale, e inserire tutte le annuali, poi tutte le supplenze al termine delle attività e poi eventualmente gli spezzoni. Naturalmente sulla base delle vostre preferenze, se preferite uno spezzone, mettete subito la scelta spezzone. Ma io qui vi consiglio di inserire prima annuale, quindi supplenze fino al 31 agosto e poi fino al termine delle attività didattiche, quindi 30 giugno. A proposito, vedete che c'è scritto cattedra orario. Che cosa sono queste cattedre orario? Sono le famose COI e COE. Allora, per quanto riguarda le COI, cioè le cattedre orario interne, sono delle cattedre costituite all'interno dell'istituzione scolastica della stessa, però il docente può essere impiegato in vari plessi o sedi coordinate alla scuola. Le COE, invece, sono delle cattedre esterne, quindi voi potreste essere accorpati in più scuole, avere 10 ore in una scuola e 10 ore in un'altra scuola, in un diverso comune. Io vi sconsiglio, a meno che non abbiate la volontà, ecco, siete disposti, e abbiate una posizione, magari, in graduatoria molto bassa, ma altrimenti io vi sconsiglio di mettere queste cattedre, perché sono veramente impegnative. Cliccate su Salva e andiamo avanti. Come vedete qui, sono state tutte inserite, ma ora noi possiamo spostarle. Quindi spostiamo le cattedre, le inseriamo tutte, e poi le spostiamo e le aggiorniamo sulla base delle nostre preferenze. Guardate com'è agile la piattaforma rispetto a quella dell'anno scorso. Ora clicchiamo Aggiungi altre preferenze. Questa volta, invece, facciamo sempre, scegliamo Scuola, selezioniamo il comune di interesse, clicchiamo Cerca e selezioniamo un istituto. Bene, vi faccio vedere qui per quanto riguarda lo spezzone. Nel caso in cui voi siete interessati allo spezzone, mettete il minimo e il massimo delle ore, anche se non è più obbligatorio. L'anno scorso, per poter procedere, bisognava indicare il numero delle ore, invece qui bisogna indicare per forza il completamento. Quindi mettete, allora lo spezzone va dalle 7 alle 17 ore. Io vi consiglio di mettere uno spezzone dalle 12 ore, se non volete nessun completamento. Voi potete anche cliccare, mettere la spunta, Completamento stesso insegnamento e diverso insegnamento. Però, se non volete nessun completamento, mettete 12 ore minimo, nessun completamento. Altrimenti vi consiglio di, invece, indicare chiaramente la possibilità di completare. Salva. Come vedete qui. Adesso continuiamo con l'aggiunta delle preferenze. Questo toglierai tutto. Questa roba qua che clicco, ecco. Mettiamo il sostegno. Selezioniamo sempre Scuola. Dobbiamo selezionare prima il comune. Selezioniamo, come dicevo, il comune e poi una scuola. In questo caso ne seleziono una. Faccio vedere, cliccate Dettagli preferenze, annuale fino al termine, spezzone. Come vedete qui c'è anche la dicitura Tipo di posto, sostegno. Qui ho cliccato Annulla perché non ho interesse, in questo momento, ad inserirlo anche in graduatoria. Mi raccomando, dopo aver inserito tutte le supplenze annuali, inserite quelle al termine delle attività e poi, se volete, cioè se siete disposti ad andare ovunque, potete selezionare anche Comune e mettere tutti, tutti i comuni della vostra regione. In questo modo, dopo aver selezionato tutte le vostre preferenze, dato che le preferenze sono 150, potete selezionare poi anche tutti i comuni. In modo tale da essere sicuri di aver inserito proprio tutto. Però poi, mi raccomando, dovete essere disponibili, dal momento in cui vi assegnano, ad andare anche in un comune molto lontano dalla vostra residenza. Altrimenti, non inserite la dicitura Comune, oppure scegliete solo i comuni veramente raggiungibili. Vi invito a farlo e a pensarci bene. Io, per esempio, ho sempre selezionato di solito solo le scuole singole, perché, per l'appunto, questo può implicare molte ore anche di tragitto. Qui potete selezionare Tutto, oppure mettere nuovamente Annuale fino al termine e Spezzone. Ecco, per esempio, come vi sto facendo vedere. E attenzione ai tipi di scuola. Cioè, voi dovete essere disponibili, se spuntate, anche alla scuola ospedaliera, carceraria, serale e alla scuola per adulti. Altrimenti, non spuntate. Salva. Abbiamo inserito. Ora, clicchiamo Successivo. Come vedete, salta direttamente al titolo 7 e qui riguarda le priorità per la legge 104. Quindi abbiamo una condizione di disabilità con invalidità superiore ai due terzi. Poi abbiamo un'invalidità grave. Ancora, sempre invalidità grave, ma questa volta di prestare assistenza in qualità di referente, eccetera. Successivo, come vedete, vi porta all'otto. Potete qui avere un riepilogo di tutta la vostra domanda, con le informazioni, le graduatori di inclusione, le vostre preferenze. Dopo aver controllato per benino, potete procedere all'inoltro. Quindi clicchiamo su Inoltra, Informativa Privacy spuntata, Inoltre. Come vedete, la domanda è stata inoltrata. Possiamo scaricare il PDF. Vediamo la spunta inoltrata in verde. Troveremo anche la mail della nostra domanda inoltrata sulla nostra email, quella che abbiamo inserito. Vi ricordo che potete annullare la domanda, come ho fatto, e la troverete inserita e non inoltrata. E quindi poi potrete anche reinoltrarla. Questa modalità è stata anche fatta per la questione delle emissioni in ruolo di quest'anno e per evitare che accada il problema dell'anno scorso. L'anno scorso c'è degli insegnanti che hanno scelto di inoltrare le loro domande di GPS, perché non erano sicuri chiaramente di poter essere immessi in ruolo. Poi c'è stato un problema per quanto riguarda l'assegnazione delle supplenze. Ora io vi saluto, vi lascio qui nei commenti la possibilità di scrivermi, di chiedermi un supporto e ci vediamo al prossimo video. L'anno prossimo sicuramente farò di nuovo un tutorial sulla domanda delle graduatorie provinciali che finalmente aprirà. Buona continuazione!